Visto che l'ultima volta Xela ha fatto la figura del pollo Perché stava distruggendo tutta la lobby con una partita incredibile Ma poi è morto da caduta Cioè ma come si fa Xela? Sì un pollo fritto Cioè un pollo, a parte il pollo non vola Pensavo di essere un'aquila ma poi era un pollo in realtà Eh mi spiegate questa cosa Che è questo outfit tutti uguali Ma che grande Ma per chi ne avete compiato la skin non si capisce nulla Sono l'unico senso abusivo Che senso? Guarda il nome di Tompy Guarda il nome di Tompy Che bugiardo, che bugiardo Ma quando la... Ah Tompy Ma quando la... Ma poi pure sbagliato No no Cioè sono io abusivo Perché mai devi copiar il nome? Non ha senso Ma che se è abusivo? Ma un minimo se è abusivo No O devi cambiare No a parte le sch... Eh non so Ma che cazzo? Il mio nome è bello Me lo lasci Diorgola prego Non te lo lascio Tompy Cioè non ha senso capito? Il team X Sono un po' abusivo anch'io Non va bene questo No scusate Me lo metto pure io E pure Ciris No tu non puoi Xela Eh ma pure io Tompy facciamo così Facciamo così Mi è venuta in mente una cosa Xela mi dispiace Mi dispiace Non guardiamo più te oggi Ma guarderemo Tompy Perché Ascoltami fratello Dovrei fare solo un game eh Vittoria reale con pompa E basta Solo il pompa puoi utilizzare come arma Però se vinco lo tengo eh Se vinco lo tieni Se perdi cosa è probabile Lo devi togli eh Tra 15 giorni lo togli Subito No serio Se perdi Se perdi lo metto io Ma cosa? Non credo ciò che vuol dire Xela Lo metto io Chicken nuggets Vai via Modalità aspetta Stompi Quello scammone Raga ma scammato il nome Che pure ha pure sbagliato Se non ha messo lo spazio Eh si l'è messo apposta Comunque Ragazzi è un gelataio Non so se vedere ma È un gelataio A parte gli scherzi Solo pompa Solo pompa Può utilizzare eh E la cosa assurda Tom P C'è un problema Cioè veramente il marasma Utilizzi? È colpo singolo? No 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 Ti conviene Secondo me ti conviene il tac Ma in sta situazione Non è manco da sottovalutare Quello spammone Ma certo Ma quello spammone È fortissimo Che tra l'altro È pure fortunato Che a questa season Ci sono 4 pump diversi Non è da sottovalutare Tra l'altro Tom P Se prendi quello esotico Può utilizzarlo anche come arma Da lontano Quindi non ho detto Grande di orgo Dai sono serio Il problema è che Poi non puoi fare il doppio pump Cioè nel senso Puoi portare più di un pompa Naturalmente Però cioè Nel senso Non esiste più il doppio pompa Nel 2023 No maledetti Lo farò intelligentemente Sì intelligentemente Guardate Primo fight Xela Dalli qualche consiglio Per sopravvivere e vincere Anzi no 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 Per due motivi Uno perché Xela Tu sei dalla mia parte È vero Cioè non vuoi che Tom P Ovvio ovvio Raga fatemi sapere nei commenti Se secondo me se lo merita Però se dovesse vincere Con soltanto il pompa Poi Tom P Tu potresti fare anche una kill Camperare tutto il tempo Io ti sto dando i consigli assurdi Ma tanto so che non ci riesci Per quanto possa essere forte C'è un nemico Tom Ti ho visto laggare C'è qualcuno Eh non lo so Ti ho visto laggare O c'è qualcuno Nel spuglio Ho tirato una laggata a caso Probabilmente una laggata a caso Seconda cosa Visto le ultime performance A livello intuitivo Di Xela Fra È meglio non accettare i suoi consigli No Allora Tu sei sicuro di pushare Cioè appunto Io non ho neanche l'up È morto Non può farcela È difficile Oddio Ah se dovesse farcela Ragazzi Meritato eh Il problema è che non può entrare nei box Ah Quanto hai di vita Non è facile Dopo quanto hai di vita Perché io vedo uno Cioè è buggato Perché non l'hanno mettato Ok È buggato È buggato È buggato Questo diventa con lo spam Easy Vale questo Non è un pompa Non è un pompa Non barare Comunque aveva il tac E non l'ha preso Quindi preferisci il colpo singolo A quanto pare Sì Il colpo singolo è coprirmi Vabbè però il tac te lo porti per sicurezza Magari lo spammi per entrare Ma comunque Lo sai per spammare ed entrare nei box Potresti utilizzare il pompa spammone Perché no? È quello che sto cercando Appena lo trovo Ma come Ce ne erano 3-4 Prima L'ho visto L'hai trovato prima Appunto L'hai trovato prima L'hai trovato prima Dopo quello ciecato Ci stiamo dimenticando di una cosa importantissima Il codice creatore Non l'hai detto Ma? Cioè Allora Mi si sta comprando Mi si sta comprando Allora ragazzi Ci siamo dimenticati del codice creatore E anche gli abbonamenti Porca miseria Lo dico io Lo dico io No lo dico io Ragazzi Se volete Entrare nel server discord Giocare con noi Fare il provino in privato Addirittura un video insieme Ci sono gli abbonamenti In descrizione E soprattutto ragazzi Ti guardate l'abbonamento nello shop Raga un punto a favore Un punto a favore a Tompi Mamma mia Xela tu non serve a nulla comunque Xelo Cioè Perché non ci hai pensato? Sono l'unico Perché non Sono l'unico senza il nome abusivo Cioè Che c'entra Perché non c'hai un neurone in meno Ho capito Esatto Hai capito Hai capito Hai capito Sì sì Secondo fight Attenzione Secondo fight Che pure pazzo questo ragazzi Questo è un pazzo sgravato eh Guarda l'autofuoco a tutto Questo è un piromane Il piromane della lobby Comunque Allora Ah Mi si era buggata la scala Queste sono le persone che odio Quelli che si boxano E non fanno niente Oddio Eh questo è un problema Ok 34 Il problema di Tompi È che non può spammare Capito Si è mangiato il pesce eh Non so se era un pesce O uno Xela Cioè un pezzo di Xela Cioè il pollo L'avete capito Insomma Ok Ma il marasma ora aveva questo Ebbè Ebbè Lo si è messo bene Ma è questo La pistola è considerata un'arma Sì Certo è un'arma Fa danno Fa danno Bravo E fa anche danno Non aiuta Terzo fight della partita Per adesso si è comportato molto bene Ma questi sembrano molto agguerriti Vero Xela Tra l'altro Un è Sembrano forze Un è caduto Cioè però Non lo so Che è successo Oddio Ah perché Perché hai messo scivolata Ghiacciata Tompi Ecco Io sto laggando Perché non ho l'app Non ho l'app Ragazzi Porca miseria Xela commentate Io non ci vedo eh Commentate Allora Tompi sta provando Tompi sta provando ad entrare Ma c'è uno con la macchina Che sta facendo il delirio Sì ma io ho visto Oh L'hanno pure investito L'hanno investito L'hanno investito L'hanno investito Quanto la devi da Tompi Io perché L'ho sempre pagato Bello Mamma mia Eh no E qua se lo sta meritando Però eh Se lo sta meritando Diciamo la verità Se lo sta meritando Troppo forte Eh dai Quasi Da uccidere Soltanto con il pompa A parer mio Poi non si sa Tompi è tanto forte Vai Comunque è la merda Delle cronaca 2x È la prova E con vento Perché io sto laggando Meglio di niente E allora Tompi sta cercando Delle cure Ma c'è quell'altro Che sta cercando Di scendere Per prendere Tompi E la sprovvista Tompi vede un muro Che non è suo Allora Non è che devi Trascrivere per i ciechi Non vedenti Quello che succede Oh Cioè non è che Ci guardano i non vedenti Tu devi Non lo so Vabbè Tompi scappa Sì sì ci sono Tompi sta scappando No ha fatto bene Ha fatto bene Ma era impossibile Raga Sì ma perché Senza Eh ma senza Spammare Ti serve il pompone Ma è il dino di orgo Non lo uccidai Apri le casse Che ti esce lo spammone Dal dino di orgo Che verso ho fatto Che questo è il dino ciris Eh il dino ciris C'è presente C'è un attimo di tregua Non è mazza Qui si lagga Ricorda che qua si lagga E soprattutto non è mazza Tompi Ma questo che fa Bello È arrivato un altro Eh wow È utile Però ci ha creduto Ma per un attimo pensava Un attimo pensava C'è il succhetto eh Potrebbe avere altri succhetti Dai ma che cavolo Sti succhetti Cioè ragazzi Vedete il player è forte L'avversario Ed ha tutte le armi Tompi solo col poppa Se lo sta facendo Cioè questo C'ha troppi succhetti Per i miei gusti Pure bomping e salti Sì ma così è importante Oh no no Sì sì Oddio Oddio Mi sento male Questo aveva mazza Cioè ragazzi Ma quanto è Dai Quanto è solido A parte gli scherzi Uno col succhetto Forte perché sapeva fare le cose Metteva anche le scale eh Quando cambiava box A me la siti e lagga di brutto Questa va a zero di ping Non riusciva a prendere i muri No no ragazzi Ma quanto è forte Questa è lo spammone di turno Sono morto È morto Cioè succhetti Ma che è sta musichetta Ma che è sta musichetta È radio Tompi Radio Stompi Ma questo è Si è esplosso da solo C'è la Vittima Sei evoluto Da circa la scimmia D'evoluzione Merda Merda Ti ho provato Bello Eh bello 34 Ha deciso lui Lui ha scelto Questo è il codice creatore chat Oh c'è il pompa spammone fra Guardate i materiali Oh incredibile Sì Questo è il codice creatore C'è il codice creatore Sempre Sempre Eh riecco quello di prima Oh Oh Ma sì Ma sì Ma sì Bene Ok Tompi on fire Oh non mi rubo Paglia finale ragazzi Ma un altro Cioè ragazzi Ma quello forte è morto Di safe da solo È morto di safe da solo Tra Eh questo è pingato Come tanto Questo non l'abbiamo ancora visto Ecco Forse era meglio Dai Tompi Era meglio non vederlo questo Adesso ci avrei succhietti Tompi Stai attento Ok C'è il succhietto però eh Non ci credo Sì 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 Devrai tollerlo Tompi Devrai tollerlo L'hai distrutto No ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se secondo me Io avevo detto vittoria reale ragazzi Vittoria reale Nei commenti No Deve tollerlo Deve tollerlo Anche se Ragazzi ha giocato benissimo Come diciamo Cioè solo il pompa Se l'ha studiata fino alla fine Ha fatto cose spettacolari Per Tompi Non ci provare Ha fatto cose spettacolari 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 Ha fatto cose spettacolari